Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pratoves e l'allacciamento con la 1 e 2 km di coda tra Firenze Nord e Firenze Peretola verso Firenze. Code a tratti a causa del traffico intenso anche in Fipi Litra, Ginestra Fiorentina e Scandicci sempre in direzione Firenze. Sulla 1 panoramica si ricorda che per lavori di pavimentazione dalle 10 di stamattina fino alle 8 di domani, martedì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e l'allacciamento con la 1 direttissima in direzione Roma, collegamento tra Bologna e Firenze garantito attraverso la 1 direttissima. Città di Firenze a partire da oggi fino al 16 ottobre per nuova allaccia alla rete idrica in vigore restringimenti di carreggiata in via della Mattonaia con senso unico da via Giordani in direzione via Nicolini. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!